Il capitolo autorizzativo, almeno per ciò che concerne le competenze del Comune, è stato chiuso con il rilascio del provvedimento per la fase 2 del progetto Argo Cassiopea. La scorsa settimana, intanto, i sindacati del settore hanno avuto un incontro con i vertici di Enimed. L'attesa adesso è principalmente per lo sblocco dell'autorizzazione legata alla posa della Sea Line, che consentirà di far arrivare il gas alla base a terra. L'attività è in corso da parte dell'autorità portuale della Sicilia occidentale, come spiega il segretario della Wiltec, Morizio Castania. Filtra molto ottimismo anche dopo l'incontro della scorsa settimana, anche perché il presidente dell'autorità, Pasqualino Monti, crede al progetto Argo Cassiopea. Il sindacato intende monitorare ogni passaggio anche per evitare nuove lungaggini. Si ritiene infatti che bisognerà procedere con celerità. Enimed sta preparando tutte le attività edilizie nell'area del progetto e anche questo è considerato un segnale confortante. I contatti sono costanti con gli enti preposti e con gli uffici ministeriali. Le segreterie di Filtem, Femke e Wiltec avevano già inoltrato una richiesta di incontro al management di Enimed, che ha dato seguito proprio mentre in municipio arrivava la firma sull'autorizzazione. Il sindaco Lucio Greco negli scorsi giorni ha preannunciato una visita in città del presidente dell'autorità portuale, Pasqualino Monti, e potrebbe essere l'occasione per discutere anche degli sviluppi di Argo Cassiopea, investimento sul gas ormai strategico a livello nazionale. I sindacati spingono per un'accelerazione finale che consenta di far partire a pieno regime cantieri ormai cruciali per l'occupazione. Per Castania i prossimi mesi non saranno semplici, i lavori di Argo Cassiopea possono dare il respiro. Nell'indotto infatti a causa della fase di cambio appalti, diverse aziende hanno perso i contratti e non tutti i lavoratori riescono a trovare collocazione. Sono tanti i fattori da considerare e l'avvio di cantieri duraturi può essere un passo importante. Una nuova verifica tra Management Enimed e sindacato dovrebbe tenersi nelle prossime settimane quando i lavori potrebbero già essere al via.